La mala pianta del racket, una storia arriva da Bacoli, zona flegrea di Napoli. Ettore De Lorenzo. Una settimana fa, nella notte tra venerdì e sabato, a Bacoli qualcuno ha provato a dare alle fiamme una salumeria che da quasi cent'anni è gestita senza alcun problema dalla famiglia della ragione. Il figlio del titolare, Giosi, che fa parte dell'associazione Fribacoli, molto attiva nel denunciare il malaffare e i reati ambientali che si consumano sul territorio, è anche consigliere comunale. Qui c'era una porta di... siamo proprio attigui alla salumeria e questa era una porta di legno, è la porta che è stata bruciata, giusto? Sì, qua c'era questa porta che stava da decenni, è stata bruciata per metà, se non era per l'intervento eroico di un cittadino che ha utilizzato una pompa che sta qui nel portone, si sarebbe... le fiamme sarebbero penetrate anche all'interno della salumeria. E poi c'era una colonna di fumo che saliva per tutto il palazzo. Nero, qui abitano quattro famiglie, le fiamme sono arrivate sino alle porte delle case, le persone non potevano uscire dalla porta d'ingresso ma hanno dovuto saltare sui balconi per vedersi salvare la vita, comunque si soffocava. Siamo parlando di una tragedia sfiorata, nulla di più. Un'intimidazione chiara e palese che però non ferma il desiderio di cambiare in meglio il proprio territorio. La paura c'è ma sicuramente l'amore del territorio è un sentimento superiore soprattutto per la famiglia perché restare qui e vivere senza lottare e non vivere. Domenica tutta Bacoli scenderà in piazza per offrire solidarietà a Giosi della Ragione e all'associazione Fribacoli. Le persone per bene di questa comunità, a prescindere da qualsiasi collocazione partitica e politica, devono scendere in campo e fare il bene della città di Bacoli. Non è possibile vedere un Consiglio Comunale che non si schiera su queste faccende, che resta in silenzio e ha anche paura, timore di citare la parola camorra.